Dal Vangelo secondo Matteo Non dimentichiamo di aprirci a Lui e di raccontargli la vita, di affidarli le persone e le situazioni. Forse ci sono delle zone della nostra vita che mai abbiamo aperto a Lui e che sono rimaste oscure perché non hanno mai visto la luce del Signore. Ognuno di noi ha la propria storia e se qualcuno ha questa zona oscura cercate Gesù, andate, andate da un prete, andate, ma andate a Gesù e raccontagli Gesù quello. Oggi Egli dice a ciascuno, coraggio, non arrenderti ai pezzi della vita, non chiuderti di fronte alle paure e ai peccati, ma vieni da me. Quando nella vita entra Gesù, arriva la pace, quella che rimane anche nelle prove, nelle sofferenze. Andiamo a Gesù, diamogli il nostro tempo, incontriamolo ogni giorno nella preghiera, in un dialogo fiducioso, personale. Familiarizziamo con la Sua parola, riscopriamo senza paura il Suo perdono. Familiarizziamo con la Sua parola, riscopriamo senza paura il suo tempo. Familiarizziamo con la Sanne! Ero la sua gloria lerenya il nostro tempo èHHS!